In occasione della festa dell'atletica andata in scena a Bormio sabato scorso, abbiamo incontrato Martina Barcepina, un'impionica di short track, neomamma di due splendide gemelle, Camilla e Rebecca, madrina d'eccezione dell'evento, avendo Martina mosse i primi passi proprio nell'atletica. Ho iniziato da piccolina a fare atletica con l'Unione Sportiva Bormiese e ho cominciato a fare anche pattinaggio. All'inizio riuscivo a fare tutte e due le cose e poi ho dovuto scegliere e ho scelto di mettere i pattini. Una scelta che si è rivelata sicuramente azzeccata, coronata nel migliore dei modi con il bronzo olimpico di Sochi, piazzamento conquistato con le compagnie di stappetta Arianna Fontana, Lucia Peretti e Elena Viviani. E Martina, nonostante i mille impegni da mamma, non è stata di certo con le mani in mano, iniziando già con gli allenamenti per poter far ritorno alle competizioni ancora più forti di prima. Per ora, grazie alla società Bormio Ghiaccio che mi aiuta con gli allenamenti la sera, riesco a conciliare le due cose. Mi piacerebbe riuscire a tornare sul ghiaccio, per ora ho riprovato i pattini e pian piano spero di riuscire a tornare ad alti livelli.